Una brutta sorpresa questa mattina per i cittadini napoletani dell'area flegrea e delle zone vesuviane. I treni della Cumana, della Circonflegrea e della Circonvesuviana sono fermi a tempo indeterminato, causando disagi notevoli in particolare ai lavoratori e agli studenti. Non è garantito il servizio, annuncia un cartello scritto a mano dietro i cancelli chiusi della stazione di Montesanto. In realtà il trasporto della Sepsia si era già bloccato nel tardo pomeriggio di ieri, suscitando l'irritazione dei viaggiatori che all'improvviso sono rimasti a piedi, senza alcun preavviso e senza alcuna spiegazione. Un'interruzione del servizio che tuttavia non ha i requisiti di uno sciopero e che rischia perciò di provocare denunce da parte degli utenti, già esasperati dal recente dimezzamento delle corse e dal frequente ripetersi di disfunzioni, ritardi e sovraffollamento delle vetture. La causa delle agitazioni sembra essere il mancato pagamento degli stipendi di ottobre ai dipendenti. Nello Polese, amministratore unico di EAV, la holding che controlla Sepsia e Circonvesuviana, sta incontrando in queste ore una delegazione di lavoratori per spiegare le ragioni dell'azienda e cercare di giungere a un accordo. Quando non arriveranno gli stipendi i mezzi non usciranno. Polese aveva annunciato a settembre una razionalizzazione del sistema aziendale per assorbire i tagli dei finanziamenti regionali cui era attribuito l'impoverimento del servizio. Ma intanto i cittadini di Napoli e della provincia patiscono ancora l'inadeguatezza del trasporto pubblico locale, scontando un disagio che non ha eguali in nessun'altra metropoli del Paese.